Ipercop prima intesa per evitare i licenziamenti, revocata la procedura per 293 unità tra Vellino e Afragola. L'intesa dovrà essere ratificata dalle parti nell'incontro in Regione Campania, ma arriva la schiarita anche per il supermercato Auscham di Giuliano, dove è stato siglato un importante accordo che salva 70 posti di lavoro, grazie ai contratti di solidarietà siglati fino alla fine del 2018. Ieri intanto la trattativa fiume per l'Ipercop è raggiunta alle ore 9 all'hotel Ramada. 12 ore di confronto serrato per il Via Libera, restano sul tavaro però due punti cruciali rimarcati dai vertici dell'azienda. Il sovradimensionamento dell'organico a fronte di un fatturato decrescente nel tempo e il bilancio critico dei due punti vendita per il 2015, chiuso con 3 milioni in meno. L'azienda precisa che si lavorerà su tre fronti, un investimento di 2 milioni e 700 mila euro in macchine, formazione e promozione per ristrutturare aziende e strutture, un forte intervento sull'eccedenza delle ore di lavoro e una nuova gestione che consenta di mettere in equilibrio i conti. Si procederà dunque alla mobilità volontaria, la richiesta di cassa integrazione fino al 31 marzo del 2017 e il trasferimento fino ad un massimo di 10 unità su base volontaria dall'Iper di quarto. Intanto l'ASM chiude a piano d'ardine e i lavoratori Elital non ricevono neanche 1000 euro di acconto sugli stipendi arretrati.